In una terra segnata dalla rovina, dove la paura e il terrore fanno da padroni, una terribile maledizione si spande in ogni dovere. Tre eroi si ritroveranno uniti nel destino per riportare la pace e l'ordine. Benvenuti nel magico mondo di Try. Ben ritornati a una nuova puntata di Try 2. No, cazzarola, è Try. Miseria, lo so che mi è venuto il callo, però uffa. Ben ritornati a una nuova puntata di Try. Oggi visiteremo le catacombe dell'Accademia. Che non so voi, ma... Quando c'è una maledizione che riporta in vita i morti, Le catacombe sarebbero l'ultimo posto che vorrei visitare, ma... Va bene, andiamo. Qua è chiuso perché? Ah! Valedetto! Figlia di questo. Qua come c'entro? Ah! Ma che mira hanno! Ma sono spaventosi! Wow! Mamma mia Echelle Voglio entrare qua dentro Ok Ma dai Pontius è l'agilità di un elefante in una caffetteria Caffetteria no Come si chiama Quella con le cose fragili Una fragileria Dimmi che ho aperto quello L'ascensore Ti odio gli ascensori Ciao Siamo schiacciato Sono dei cecchini questi Quando erano in vita erano dei cecchini Di qua oppete Di qua oppete Di qua scrigno Buono cosa troviamo L'amuleto del mana Cos'è 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 Che fa Ripristina il mana del proprietario Ma solo quando non è attivo Ok Ripristina un monomano per ogni mostro ucciso Oh Yoink A lui servirà parecchio Aviso che dobbiamo creare casse a go go Si Ok Una ranocchia Avete sentita C'è una ranocchia No No Cosa Cosa Spiega Da dove arriva sto gigante Ah la testa Dove sono Ma dove Ma non dire Ok Che battaglia epica Con questa colonna sonora molto Rilassante Dimmi che posso prendere la spada Dai dimmi che posso prendere la spada No Odio la spada Non è vero Scrigno La forza dei titani Per il cavaliere Oh mamma Forse dovremmo riprovare Aua Però fighissimo Aspetta Di nuovo Dai Dobbiamo far pratica Dobbiamo far pratica Smettila Lo so che mi stai ripristinando la vita Basta Preso Ah 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 È il potere più figo del mondo Ok Prima cassa che creiamo nel gioco E la creiamo male Ah va su e giù Wow Wow Le abilità infinite Della Amadeus Di Amadeus Di Amadeus Che sta facendo Adesso salgo Ah attacco in salto Adesso salgo Ah attacco in salto Adesso salgo Ah attacco in salto Questo è quello che sta facendo Dov'è è morto No sta correndo Ah 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 Sta correndo No Prova da matti Resti in peace amico mio Resti in peace Ecco cos'è questo rumore Permesso Scusa Gregorio fa un paura Oh in tempo Ai 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 Hai raccolto esperienza Hai raccolto esperienza Pozione di mana Pozione di mana Pozione di mana Ok Boink 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 C'è un altro Ah Ah Tu maledetto Ottimo 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 È bruttissimo Sto rumore Una palla chiodata Sapevo che c'erano i ragni Sapevo che c'erano i ragni No dai è morto Ma non ho neanche visto Non puoi uccidermi i ragni Prima che li veda Se no che sorpresa è Tu guarda Ti uccidiamo i nemici Prima Tu possa ucciderli Ah grazie E quindi Cos'hai capito C'è lo scheletro Che rompe Ma come un altro morto Non smettete di morire Allora innanzitutto Tu scheletro Maledetto Ti cavi da qua Via Grazie No No Aspetta Visto che disegneriamo mana Usiamolo sto mana Ok No Non sto su Ah Vieni qua un secondo Ci avviciniamo Qua più possibile E voilà Apriamo Hai trovato La fiala di mana Fiala di mana Dov'è Ripristino automaticamente Il 30% del mana Una volta esaurito Poi si è usata una sola volta E si ricarica Il raggiungimento del checkpoint Che figo Che figo Boh Da Amadeus Tutte le robe di mana A quell'altro Tutte le robe di vita A lei Non lo so Probabilmente niente È cattiva Voglio rubare le robe No No perché Che già ho il tempismo Che non va In questi giorni Achievement Unlock Tra l'ho tutta l'esperienza Di questi livelli Voilà Oh che bel posto Guarda questo E' deve essere Il tomb Sì Sì Siamo corretto Questo è il tomb Il guardia Che ha inscripiti Tutto qua È vero Mi serve un po' Di tempo per tradurle Eh Stiamo qua quanto vuoi Perché stiamo andando via Non ha senso Di tradurle là Come il wizard Lui ha le inscripiti Centrale Le ghenzio Odds Artifacts Began To emerge There had once Been three Guardians Each With an Artefact To protect The trine Was an Artefact Of the soul And righteousness And a Catalyst For the Powers of Good That had Quietly Helped Raise Young Good-hearted Wizards In the Astral Academy The two Remaining Artefacts Were mentioned Only briefly The second Artefact That pertained To mind e la potenza di Trine si è stato installato nel grande castello nel medio del kingdom dobbiamo andarla a prendere assolutamente qui finisce questa puntata di Trine spero che il video vi sia piaciuto spero che vi abbia divertito ci vediamo in un prossimo capitolo della serie Trine ciao a tutti